buonasera a tutti benvenuti in questo nuovo video ho ottenuto per mezza giornata un mezzo davvero diverso al solito ora ve lo presento e come vedete non porto la giacca da moto in quanto la mia intenzione non è assolutamente quella di andarci per strada ma di infangarmici bene vi faccio vedere in mezzo il mezzo è un polaris 800 sportsman del 2007 è un 800 bicilindrico più o meno abbiamo una potenza di 50 cavalli ma è molto indicativo in quanto l'importante sul mezzo genere è la coppia il nostro amico qui ha sia le ridotte che le normali quindi abbiamo possibilità anche di arrampicarci su pendi un po più estremi velocità massima siamo 600 all'ora ma comunque ci interessa relativamente e un mio amico ha fatto questo bell'acquisto e noi lo andiamo a battezzare ok mai iniziamo sarà tutta una nuova scoperta da fare insieme vediamo un po cosa ne verrà fuori non ve lo porto sull'asfalto ma per un semplice motivo perché comunque secondo me è limitante prova mezzo al genere sull'asfalto cioè questo è insomma un polaris mezzo a fuoristrada il meccanico ha consigliato di non farlo camminare su quattro rimotrici quindi tenerlo sempre su due e quindi non lo terremo su due vai mi ispira pure sta via vai si ma è una figata rapida rega io non me lo immaginavo io ci sto a piena mano ok rega abbiamo scoperto che mi piace pure fare enduro, che palle ma perché mi piacciono così tanti i motori non potevo nascere con passione per il calcetto 5 euro di campo a settimana è stato a posto no, i motori, costa tutto un botto sì perché sto bestione qua costa 5.000 euro usato insomma non è un attrezzino da poco allora, chi come me non ha mai guidato un quadro si aspetta un mezzo pesantone, statico invece è impressionante quanto è veloce cioè anche che comunque questo non è proprio un modello da competizione non è che monta al 4.5 da grosso cioè è un bel pesantone diciamo del qua che di là siamo andati oppure è impressionante la spinta che ha è impressionante proprio una bella discarica abusiva sta sempre bene tranquillo Mariano, ha detto il meccanico che ha fatto anche per fare questo sto solo collocando le sospensioni se funziona tutto allora raga, è arrivato intanto vediamo se la GoPro sta a riprendere questa stronza sì se sapete che ho un cattivo rapporto con le GoPro no? chi mi segue da un po' lo sa ma se vedi... eccolo eccolo è il momento è il momento ok il campo è piano, non c'è posso mettiamo le ridotte? Mariano lo faccio per la scienza patonna, proprio da abbattere le foreste sto coso no, non è bene, proviamo ma stai a vedere lo voglio fare tutti i giorni ma stai a vedere che spettacolo allora, prima di affrontare l'ultimo pezzo di sterrato vi voglio dare qualche impressione la posizione in sella è comoda è proprio una poltrona ma soprattutto uno lo vede così grosso ma da una confidenza ad un neofita come me è impressionante cioè dopo dieci minuti già veramente hai preso una padronanza che ti permette di gestirlo in tutte le situazioni normali l'oggetto è praticamente in situazioni più critiche ci vuole esperienza però non è una cosa da tutti cioè comunque per lì io mi stavo buttando in mezzo a sto campo no raga io voglio fare questo tutto il gioco ok e niente, è un nuovo sport a rari campi altrui, gratis normale, raga prendete quelle pinze, quello che sto a dire nel senso di uno che come vedete ci sto a passeggiare cioè sicuramente quelli che vanno forte, forte quelle che vanno forte, forte su altri questo sia chiaro non so sto video quanto verrà lungo però io non lo voglio riportare a sto quad mi sto troppo a divertire quindi poi vediamo che verrà fuori vedete? non gliela direste mannaggia sono bloccato invece no perché mettete le ridotte e fate sì cazzi mi sa perso da cazzo da dove sta venuto vabbaggia veniva da te là ok 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 bene spero che questa escursione dei campi con questo mezzo vi sia piaciuta vi siate divertiti per me è stata un'esperienza davvero bellissima cioè io sono un neofita mai guidato in enduro mai guidato un quad non mi aspettavo insomma di divertirmi così tanto non mi aspettavo che questo mezzo tirasse fuori queste caratteristiche incredibili in fatto di agilità tenuta davvero uno spettacolo bene se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate fatemi sapere magari qualche consiglio di guida qualcosa sui percorsi qualsiasi cosa volete condividete se vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto per fuori iscrivetevi attivate la campanella un video nuovo ogni giovedì alle 14.30 c'è un ciuffo fuori posto il casco buono non l'ho portato perché non sapevo a cosa sarei andato incontro noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi